Facciamoci anche questo ponte tibetano, belli imbragati, andiamo! Sto pensando a quando metterò il primo piede sul gredino, sulla pedana. Hai anche la cappelletta per fare la tua ultima preghiera. Della mamma che ovviamente ha rinuncia, non avevamo dubbi. Uè fifona! Anzi vai a... tralasciamo il... Punto massimo di altezza. Anzi. Anzi. Spettacolo ragazzi! Anzi. 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 Anzi.